Bohart come broker ha acercato tutte le compagnie di segura per creare un prodotto per noi visitanti con lo cobre gasto nel medico relacionato con il Covid. Normalmente non sta competendo contro l'altro, però mirando il rischio che è involvito nel progetto e l'importanza per la economia di Aruba, ha deciso di trao junto per arrivare un seguro con lo cobre gasto nel medico relacionato con il Covid. Covid non è un bingo manual, pois nos ha aiuto a enfrentare corretto in una grande maniera di determinar il possibile claim e gasto nel relacionato con esa cinquantina data existente, bingo un tecnologia necessario per così automatizzare e vendere, per processare pago e claims in una maniera eficiente. E' compagnia non di segura a trao junto e a creare un modello di e' possibile riesgo non è involvi. E' parte tecnologia, a che da den mangi nostri sta Masi United Insurance. Masi già tabata ten e'plataforma in place per processare tu repeticione con lo 30. Nos ha trao incansabile e ultimo tre semane va por a finalizzare e tecnologia e prodotto Aki. Finalmente, maniera mencione a Caba, e' partecipante nanta Enea, Elvira e Masi United. E' pa' ayuda a carga e posibili perdida, un reinsurance renombrà na America. Claims handling lo queda den man di Bohart. E' seguro da solamente pa' turista di Ata. Ainda non sta mai mai di e' pandemia aki. Pois si, e' posibilità ta' existi cu caso non di infekciò lo llega a ruba. E' seguro aki lo ayuda e' turista non cubri e gasto non, ten al limite di e' polisa, e lo reduzi posibili deba ng grandi co turista lo porlaga atras. E' sa aki ta' un problema co hospital ha enfrentat den pasado. I awo con pandemia andando, e' por vira hopi pio. I awo con pandemia andando. I awo. Grazie.